di oggi. Alla fine della... oggi abbiamo un primo intervento di Gino Amentuni, poi le domande, tra l'altro potete fare domande sia da qui sia partecipando attraverso Twitter con l'hashtag Labo, Labo 2014, potete fare delle domande perché poi ci sarà Francesco che nella regia ci manda delle domande di persone che non possono partecipare, con noi però in qualche modo interagiscono. E alla fine della prima lezione, o meglio, tra l'intervento di Gino Amentuni e quello di Francesco Ricodemo che ci raggiungerà dopo, mangeremo, grazie alla cucina dei compagni, della Gramiglia, con un pezzo di intervento. Quindi grazie e ringrazio. Abbiamo i tempi contingentati, quindi dovrete essere bravissimi in un quarto d'ora a andare, a mangiare tutti insieme e poi tornare per la lezione successiva, però lo facciamo perché rispettiamo i diritti fondamentali e fare dalle 7 alle 10, insomma, senza mangiare ci rendiamo conto che può essere difficile per tutti. Come nelle altre occasioni, questa iniziativa verrà video ripresa, e anche qui ringrazio Federico e Francesco che fanno le riprese e verrà fatto un record. Quindi anche qui il meccanismo è tutti partecipiamo, tutti possiamo interagire, chi non può, per alcuni motivi, ci sono dei consigli comunali e persone che non potevano partecipare, possono vedere le videoregistrazioni. Perché il concetto è, e lo dico per quelli che magari non sono venuti alle lezioni precedenti, o che sono più per la prima volta, o che sono optici, perché questa è un'iniziativa non solo aperta agli iscritti di lato oggi, ma anche agli iscritti del circolo, quindi ci sono persone che non seguono tutto il resto delle lezioni. Questo corso lo finanziamo con il crowdfunding, quindi con la raccolta fondi. Anzi, per chi volesse, io rinnovo sempre l'invito su Idea Ginger, un euro, due euro, quello che volete, ma ci aiuta ad autofinanziarci e soprattutto ci obbliga a rendicontare tutto quello che facciamo. Queste le mie comunicazioni di servizio, io adesso lascio subito la parola a Michele D'Alena che ci introduce un po' questo nuovo modulo sui nuovi alfabeti democratici. Buonasera a tutti, a voi ho 5-6 slide, allora intanto vi ringrazio, ringrazio Marco, quello che vi dirò in due slide, o quello che vi aspetterà in queste 5 lezioni, io mi sono occupato appunto di realizzare queste assicurazioni, solo che non vi rendono da slide. Arrivo, arrivo. Esatto. Dove le vi hai messo Marco? Su Dexter? Sì. Era Labu, credo, o qualcosa del genere. Comunque, parto presentandomi. Lavoro al Comune di Bologna, per altri enti, mi occupo di comunicazione e di innovazione, cerco sempre di usare il web come strumento per far partecipare chi di solito è il destinatario dei progetti. In questo laboratorio, l'Alo, ho dato una mano sia per la campagna di crowdfunding, ma soprattutto ad organizzare queste 5 lezioni. di livello di fondo... Arrivo, perché trovare qua su questo testo non è come dire. Aspetta, sai che faccio prima... Se la hai una chiamata? Si, la faccio prima... Si, la faccio prima... Ok, trovate... Allora... Ok... L'idea era proprio quella di fare un viaggio attraverso 5 lezioni sui nuovi metodi, partendo dalla comunicazione ma andando a parlare anche dell'educazione e del mondo del lavoro. L'idea di passare su 5 lezioni partiva dal presupposto che ci sono dei nuovi modi per lavorare, nuovi modi che inizialmente soprattutto partono da un uso del web strategico che non è solo un viaggio dei nuovi metodi attraverso 5 incontri e 17 testimoni. Ci sono 17 invitati, alcune lezioni frontali come quella di Dino o quella di Francesco Nicodemo dopo e due tavole rotonde se vai oltre. L'idea è proprio di entrare dentro il mondo che ha cancellato Blockbuster e ha fatto sì che al posto del Blockbuster ci siano delle reti in cui sono gli utenti a scambiarsi i film. Tutti voi, non so l'ultima volta che siete entrati in un'agenzia turistica potrei chiedervelo, perché ormai tutti noi usiamo il web come arena dove trovare informazioni, dove comprare i biglietti, dove trovare un hotel attraverso le recensioni degli altri. Per cui l'idea è proprio quella di entrare in un mondo in cui, questa è una celebre pagina dell'Economist, in cui tutto quello che vedete è scambiabile o affittabile. Fino a vent'anni fa avevamo l'idea di comprare le cose, adesso possiamo con un Airbnb affittare una casa per andarsi in vacanza, possiamo in qualche modo, insomma c'è questa idea dello scambio che magari riprende dei metodi anche antichi, però attraverso il web c'è un nuovo modo, c'è una riscoperta di antichi valori e attraverso il web noi riusciamo ad avere una massa critica incredibile. Infatti questa è la celebre slide, la celebre foto con tutte le connessioni di qualche anno fa di Facebook. Evidentemente in questa slide non si capisce dove c'è il gerarchia. Facebook vi permette in qualche modo di, senza essere informatici, di produrre dei contenuti in rete e produce quello che è il grande cambio di comunicazione della comunicazione dopo Dino e anche Francesco ve ne parleranno. La comunicazione dei social network è quella delle reti, non abbiamo più dei messaggi broadcasting come in questo quasi io che vi parlo e voi ascoltate, ma voi avete la possibilità di produrre dei contenuti. E questo modo di fare è dilompente, per cui, e ne parleremo durante questi 5 incontri, abbiamo un nuovo modo di affrontare anche l'educazione. Questa è una foto di un coderdocio, avrete anche chi si occupa di portare il coderdocio a Bologna, che è un laboratorio per insegnare i ragazzi, anche di 10 anni, ad usare il computer non solo come funguitori passivi ma anche come funguitori attivi, cioè a 10 anni, in 3 ore, questi ragazzi, iniziamo la borsa al sabato, di solito li organizziamo, i ragazzi imparano a fare dei videogames, a farli loro, non solo a giocarsi, andando oltre. E poi nascono le social street, per cui questo mondo in cui i social network sono una vera arena in cui le persone, chiunque, riesce a non solo organizzare dei contenuti ma anche a ritrovare una forma di socialità, per cui le social street, qualcuno di voi è di Bologna, magari qualcuno di voi anche scritto, nate in via fondazza, un po' per scherzi, un po' per coprire un bisogno reale, si stanno diffondendo in tutta Italia. Ecco, l'ambiente in cui io vorrei farvi riflettere attraverso queste 5 tappe è proprio quello delle social street, è quello dei social media in cui le persone possono dialogare e organizzarsi. Andando oltre, per cui l'idea di fondo che io vorrei in qualche modo farvi comunicarvi in queste 5 tappe è che proprio in un mondo della produzione, della comunicazione, del giornalismo e soprattutto della politica, noi qui parliamo di innovazione politica, è stato cambiato completamente da questo nuovo metodo, che è un metodo che parla di trasparenza, che parla di condivisione di dati, per cui dove c'era il controllo delle informazioni, fino a pochi anni fa, un corso di questo tipo avrebbe dovuto convincere i giornalisti del resto del cammino della Repubblica del Corriere per essere comunicato, invece oggi noi possiamo creare una pagina Facebook, un blog, un tweet, insomma mille, per poter comunicare e questo non è mai accaduto prima, dove prima c'erano dei modelli di proprietà privata, adesso ci sono dei modelli di condivisione, avete sentito parlare dei co-working, ecco i co-working, ne parleremo con un co-working manager durante queste circunzioni, per cui anche nei luoghi di lavoro dove prima c'erano degli uffici separati, adesso nel momento in cui c'è il 40% degli anni 35 che è disoccupato, i co-working sono ormai la notizia del giorno in ogni città, anche a Bologna ormai siamo più in una vicina di co-working aperti, andando oltre, per cui l'idea è che dove prima c'era la gerarchia, adesso ci può essere collaborazione, questo avviene in più canti, nelle 5 lezioni che adesso vi farò vedere brevissimamente, andremo ad affrontarli, vai oltre, per cui il punto davvero finale e poi passo a raccontarvi le 5 lezioni è che prima chi, il cittadino che poteva essere considerato passivo, l'elettore, il lettore, il consumatore che poteva essere considerato come un elemento passivo, adesso può produrre valore, può produrre valore facendo delle recensioni, il 40% degli utenti politici, prima di comprare certe informazioni non dai siti ufficiali, ma certe informazioni nei forum, per cui nel fare politica secondo me noi dobbiamo passare attraverso questo cambio radicale, per cui l'idea però fondamentale è che per questo nuovo cambio culturale mancano delle palestre, mancano proprio dei modelli pratici per imparare a stare in queste arene, ecco, l'abo, e qui merito a Marco e a tutti quelli che ci hanno lavorato, l'abo è questo, l'abo è una piccola palestra che vi permette in qualche modo di confrontarvi con docenti di primo ordine, di confrontarvi tra di voi, perché è un laboratorio, fin dal nome, per cui l'abo in qualche modo cosa fa? Sperimenta il crowdfunding, cioè un metodo per cui nessuno è passivo, ma tutti possono essere attivi, fin dal metodo di finanziamento, per cui nel momento in cui voi in questo laboratorio potrete sperimentare quello che è, raccontare quello che state vivendo, raccontare, prendendo in mano anche la pagina Facebook di l'abo, o il canale Twitter, potremmo di contare con i vasti report, quello che state facendo, state in qualche modo mettendo in pratica un nuovo modello che vi tornerà utile quando domani avrete un vostro progetto, per cui la prima lezione è questa, con Vino, non anticipo niente, tanto poi vi racconterà poi lui, poi Francesco Nicodemo che vi racconterà in qualche modo la nuova comunicazione del PD, la prossimo mercoledì ci sarà Fabio Neoletto nella direzione regionale di Piemonte come responsabile di innovazione e soprattutto anche un segreto giornalista della regione Piemonte, per cui una persona che sta comunicando in un'istituzione e che fa politica, un po' è Lidia Marensu che è una manager che ha un'impresa, per cui se oggi facciamo in qualche modo una lezione di rottura con uno della Secretaria Nazionale, con Dino Menduni, che secondo me è più capace a raccontarvi quello che sta succedendo nella comunicazione politica, mercoledì faremo proprio una cassetta degli attrezzi, che cosa vuol dire Facebook, come si sta su Twitter, come si usano i social network, quindi consiglio vivamente di essere presenti perché sarà proprio come una PC, una cassetta degli attrezzi appunto. Poi andando oltre, lunedì prossimo avremo Giovanna Cosenza, che magari qualcuno di voi conosce, che si divertirà a raccontarci un po' gli errori della comunicazione del PD, da Beltroni a Renzi, per cui un'ora in cui lei da docente accademica e da superstimate, insomma opinion leader, ci racconterà un po' di errori da non ripetere e successivamente avremo una tavola rotonda con due progetti che nascono in circoli del nostro territorio e più due progetti che secondo me indicano un nuovo modo di fare, un nuovo modo di fare comunità. Agnese Di Ginger, che ci ha accompagnato con i crowdfunding di Labo, e Federico Bastianni delle social street, che ho citato prima. Per andare verso la fine, il 26 marzo avremo Luca De Piaze, che è responsabile dell'inserto innovazione del Sole 24 Ore, quindi uno dei pensatori davvero più stimati che ci sono in Italia, che ci parlerà dell'innovazione delle lege strategiche per l'innovazione, cosa deve fare un territorio per puntare all'innovazione e successivamente avremo tre progetti che vi parlano di un nuovo modo di fare formazione nelle scuole. La scuola è un terreno fondamentale per un territorio, abbiamo cercato di trovare tre progetti che in qualche modo indicassero dei nuovi modelli. Per finire, e qui davvero passo la parola a Dino, l'ultima lezione parleremo dei nuovi modelli del lavoro. Il lavoro, soprattutto per i giovani, è cambiato e lo faremo con tre persone che portano tre diversi punti di vista. L'ex responsabile della CGL nazionale di Labianani, Francesca Mazzocchi, che si occupa per Sianneato Scala dei maker, famosi maker e dell'artigianato, quindi come fare un'impresa, le nuove imprese, e Mattia Sullini che è un co-working manager, cioè gestisce dei posti di lavoro, gestisce dei co-working, ed è una scuola del mondo dei cosiddetti freelance, delle partite IVA, ok? Quindi io spero davvero che con queste cinque lezioni vi farevi vedere davvero, è l'inizio, sono dei gate, sono delle porte di apertura. Poi come dicevo, come leggevo poco tempo fa su Twitter, pochi giorni fa, il mondo del web vi costringe a essere curiosi, per cui vi invito a cercare su Google delle parole chiave che magari non capite, sicuramente molte cose non le capirete, però segnatevele, chiedeteci che noi siamo qua per aprire delle porte. Buona lezione, paga a nuove. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, io mi chiamo Dino Belluni e oggi vi parlerò di due cose, prevalentemente la prima è quello che viene chiamato l'insieme degli agenti di socializzazione politica, cioè come votano gli italiani, a cosa sono influenzati nella presa di decisione, quali strumenti utilizzano e con quali scopi. E nella seconda parte vi parlerò invece di, partendo da un po' di domande raccordi in questi mesi, a risultati di un'altra lezione, un po' di aneddoti, ma anche di consigli sull'impostazione di una campagna elettorale. Avanti. Come dicevo, io mi chiamo Dino Belluni, sono di pari, lavoro in un'agenzia di comunicazione che si chiama Proforma, un'agenzia che ha compiuto 18 anni il 2 febbraio di quest'anno, un'agenzia di comunicazione classica, sebbene fuori dai confini locali sia conosciuta prevalentemente per le campagne elettorali, quindi molti pensano anche Proforma, sull'agenzia di comunicazione politica, è punto, invece questo non è, così non è, lavoriamo anche, anzi prevalentemente se guardo il fatturato sulla comunicazione commerciale, però siamo conosciuti prevalentemente per le campagne elettorali per la comunicazione politica. Avendo fatto in questi anni per fortuna una serie di campagne elettorali riuscite che hanno portato alla vittoria dei candidati, abbiamo iniziato esattamente dieci anni fa a pari con Michele Emiliano, che poi abbiamo seguito anche nel 2009, abbiamo seguito l'Endra, in cui nel 2005, nel 2010 e anche le primarie del centro-sinistro nel 2012, quelle contro Bersani e Renzi, abbiamo seguito Bersani nel 2009, contro Franceschini e Marino, sedettorio del PD e Renzi, primarie del PD dell'8 dicembre. Io in particolare anche seguito la Debra Seracchiani, regionale in Friorenza e Giulia, l'aprile del 2013 e siamo anche autori delle stracità, delle slide di mercoledì, della conferenza stampa di Renzi, quindi Pesciolino nostro, il carrello della spesa, sono tutte quante responsabilità nostre, ovviamente abbiamo tutta la sera potuto discutere e ragionarci su perché, posso già anticiparlo che noi siamo sconquissati, esatto, a leggere alcuni editoriali, con cui ovviamente erano citati sociologi, segnologi, senza che noi avessimo una minima idea che fossero, però fa parte della, fa parte della, diciamo, della masturbazione intellettuale post-hoc, non so se la possiamo raccontare a questo punto, non so se sapete che quando l'8 dicembre Renzi ha vinto le primarie partì come canzone, ma dentro lui, I like it, l'icona pop, e ho letto l'editoriale da 10.000 battute sulla scelta di Renzi di utilizzare I like it, l'icona pop, il punto che quella canzone, che comunque faceva parte, in qualche modo, del bagaglio di Renzi, non era la canzone scelta inizialmente, doveva essere Wake Me Up di Avicci, era stata la canzone durante tutta la campagna elettorale, che non è partita perché si è inceppato lo stesso, e dal giorno dopo migliaia e migliaia di battute sulla scelta di rottura di Renzi, e questa è una parte della meta-narrativa delle campagne elettorali, dicevo, vi parlerò di questi aspetti qui, prima di tutto voglio dire una cosa per assicurare tutti quelli che fanno politica, la crisi di fiducia non è una crisi che riguarda solamente la politica, la parola antipolitica descrive veramente male il paladino di cui stiamo vivendo, avanti, la vera, prendiamo subito la prima altra tabella, se si legge poco va la leggo, solamente tre istituzioni tra politica e non politica oggi hanno una percentuale di fiducia superiore al 50%, e sono le forze dell'ordine, 70% di fiducia, la chiesa, 54% di fiducia, più 10% in un anno, si può parlare tantissimamente di effetto Bergoglio, non me ne vogliono i cristiani convinti, molto marketing, e poi c'è anche la scuola che è saldamente sopra il 50% da sempre. Una volta isolati queste tre caratteristiche, poi tutte quante le altre organizzazioni politiche o non politiche sono sotto il 50% di fiducia, il Presidente della Repubblica al 49, due anni fa era il 72, la magistratura è sotto i 40, l'Unione Europea al 32,3, mi sono dato di Demos, la situazione nascosta è ancora più basso, la fiducia dell'Unione Europea è passata dal 49 al 24 in 5 anni, il Comune al 31,8, era fino a qualche anno fa l'ultima avvaluata, perché ti fidavi del sindaco perché comunque lo potevi incontrare per strada, lo conoscevi, quello che lui faceva nel bene e male era una dipercussione immediata sulla tua vita quotidiana, se c'è una buca nella strada la seconda di prenderla, se le strade sono sporche, la seconda di prenderla, il Comune aveva sempre qualcosa in più di fiducia rispetto alle altre istituzioni e quel qualcosa in più è stato perso, 31,6, associazioni dei produttori 29, regioni 21,7, sindacati, sindacati si abbassano esattamente come i partiti, CGL 28, lo Stato nazionale, meno di italiano su 5 fiducia dello Stato come istituzione, 18,9%, CISLEW, 15,4, le banche 12,2 e poi in fondo dati comunque inquietanti per certi versi sicuramente più bassi d'Europa, Parlamento 7,1% di fiducia a partiti 5,1%, se pensate al risultato delle politiche del 2013 hanno votato il 74%, quindi stiamo dicendo che due italiani su tre hanno votato per parlamenti di cui non hanno una minima fiducia, hanno votato a Romagna, non si parla più neanche di meno peggio, di turarsi il naso, si parla di voto per inerzia, so che devo farlo perché mi hanno spiegato che si fa, ma non c'è più neanche l'idea dell'europeggio, questo vuol dire che le campagne elettorali oggi si svolgono in un vuoto di fiducia, sostanzialmente c'è un problema da parte di tutti gli intenti della comunicazione, in particolare della comunicazione politica, a prescindere da quello che si dice c'è un problema di credibilità di chi sta parlando nei confronti di chi sta ascoltando, questo vuol dire che la comunicazione politica non è più solamente una questione di messaggio, è anche una questione di scelta dei canali e di tentativo di ricostruire questo rapporto, di ridurre al massimo la distanza tra democrazia e fiducia, la diventazione tra mancanza di fiducia e democrazia, quindi le campagne elettorali oggi si giocano in questo contesto, in un contesto in cui chi parla tendenzialmente non gode della credibilità di chi ascolta, in cui contemporaneamente la sfiducia verso gli intenti politici corrisponde una sorta di fuga verso i vicini, le reti prossimali delle relazioni, gli amici, i parenti, i conoscenti, i compagni di squadra del calcetto e sono lì oggi che si scaricano molto spesso i comportamenti di voto, lo vedremo fra un po' in quale misura, un controllo crescente dell'attenibilità dei messaggi dei emittenti da parte dei senatari, quello che viene chiamato fact checking, un libro tecnico, ma che non è solamente una ripropulsione nel mondo del giornalismo nel mondo dei confronti tv dove c'è stata l'università che verifica l'attenibilità delle fonti, oggi è molto semplice vedere una dichiarazione di un politico e qualcuno, che può essere un singolo cittadino, un sito, un quotidiano, chiunque, a vedere se effettivamente quella promessa è stata mantenuta dentro quella data, se ci sono le comitiche coperture, ogni volta che un po' di coparla, c'è subito qualcuno che fa di copertura, per dire c'è un atteggiamento oramai di verifica sistematica di quello che viene detto, questo vuol dire per la comunicazione una cosa molto chiara, fare promesse oggi non paga più a livello elettorale, è diventato un problema, è diventa problematico nella misura in cui le promesse non si rispettano, diventa un boomerang, uno può avere un credito nel senso immediato nel brevissimo termine, ma poi può perdere tutto quello che ha acquisito e perdere anche tutto altro, ovviamente questo vale in senso anche al contrario, se uno fa una promessa non mantiene oggi ha un credito molto superiore a quello che c'era prima, perché è sempre più raro riuscire a rispettare a certe tabelle. C'è una situazione paradossale, per cui da un lato c'è un aumento di mediatizzazione della politica, anche se i media sono sempre più screditati, quindi da un lato non ci fidiamo più dei giornalisti, magari televisivi, giornalisti che ci pensiamo siano magari prezzolati o di parto, schierati o poco oggettivi, dall'altro lato però si parla di politica a qualsiasi ore del giorno della notte, di qualsiasi programma, non necessariamente i programmi di approfondimento politico, c'è questo formato che è stato tipicamente americano, ma adesso in Italia è frequentissimo quello del cosiddetto infotainment, dove il modello dell'informazione e quello di intrattenimento si mescola e quindi non si capisce dove inizia l'informazione, dove finisce l'intrattenimento, l'arena di mano di giletti è uno dei programmi più importanti se volete capire come funziona l'Italia, secondo me non lo dico, perdono un fatto estetico ma perché ha 32% di share e lì si incrociano senza alcun regime, senza alcuna gerarchia, gerarchie più o meno importanti, politici, subrette, psicoterapeuti, cantanti, non c'è alcuna gerarchia, lì sono tutti sul stesso piano e non c'è da parte dello spettatore una specie di protezione, nel senso che se io guardo Ballarò so che questo tipo mi aspetto anche una certa di pregiudizio o positivo o negativo al confronto di Ballarò, se io guardo l'arena non so che tipo di programma mi aspetto le difese più basse, quindi i messaggi che passano possono passare anche in modo più inatteso. Il modello a cui bisogna andare incontro, il modello a cui bisogna seguire, sia a livello di organizzazione che a livello di comunicazione politica, è quello che viene chiamato di autocomunicazione di massa, che è un concetto che ha inventato Marco Castelzo, un sociologo spagnolo parlando di rete sociali. Autocomunicazione di massa in sé è un concetto un po' contraddittorio perché dall'altro c'è la comunicazione di massa per cui c'è un mitente che parla attraverso un canale di massa a molti destinatari mandando un messaggio tra virgolette generico. Dall'altro lato e dall'altro posto c'è l'autocomunicazione, c'è un modello di rete e di comunicazione in cui ogni cittadino può potenzialmente costruire da solo la propria agenda informativa, le propria priorità informative. Sono due modelli apparentemente agli antipodi, come si incrociano a livello del punto di contatto? Il punto di contatto è in quei momenti della vita politica in cui le rete sociali sono un luogo in cui i cittadini parlano tutti più o meno del stesso argomento ma scegliendo ognuno di loro qual era la realità per farlo. Un caso abbastanza clavante di autocomunicazione di massa è stato il referendum nel 2011 dove tantissimi cittadini che hanno cercato informazioni su mezzi tradizionali non trovandole si sono riversati sui nuovi media per cercare queste informazioni sul referendum. Il punto è che riversandosi sui nuovi media non si sono limitati ad apprendere informazioni ma sono stati anche di un canale dove hanno potuto condividere informazioni. Quindi da un lato c'è stato il meccanismo di autocomunicazione in fase di reperimento, dall'altro lato c'è stato l'assommatore di tanti atoli di comunicazione ha portato un'unica onda che poi ha portato a un unico flusso di comunicazione che è gran parte determinante per l'aggiungimento del cuorlo dopo tanti anni in cui questo non è accaduto. Avanti. Dicevo prima, sgombero un campo anche in mani che tutti quanti noi o comunicatori da politici facciamo politica, il problema non riguarda solamente la politica, quindi è un problema che riguarda tutti. Andiamo avanti. Questo dato è di giugno del 2013, metà a confronto la fiducia nei principali media in Italia e in Europa. Vedete come in Italia i livelli di fiducia sono molto più bassi rispetto alla media europea. La radio ha 15 punti in meno di media di fiducia rispetto alla media europea, la televisione ne ha 11, la stampa ne ha 5, l'inter è paradossalmente a 3 punti in più della media europea. C'è quindi una sfiducia crescente nei giornali, nelle televisioni, nei giornalisti, nell'informazione tradizionale che porta parallelamente a una sorta di fuga verso internet. L'aspetto interessante comunque è che se da un lato vediamo questa sproporzione tra media europea e Italia, vediamo anche come se in Europa c'è una certa sproporzione tra i mezzi tradizionali e internet, in Italia invece tutto sommato la media è liberata verso il basso, quindi comunque internet sebbene riesca a rispondere almeno in parte ad alcuni bisogni della popolazione italiana non riesce a soddisfare chiaramente. Detto questo comunque è tutto evidente che per i politici c'è un problema, c'è il problema del fatto che i canali utilizzati per comunicare contribuiscono a un ulteriore decadimento della fiducia che possono avere, quindi non è importante semplicemente comunicare, la comunicazione muscolare quantitativa non è oggi il modello giusto, la comunicazione oggi richiede la massima livello di coerenza possibile, cioè ciò che si sta dicendo è il canale su cui lo si dice. Mi ripeto, pensare di che quanti più manifesti faccio, quanta più televisione faccio, quanti più confronti faccio, automaticamente mi porterà l'aumento del consenso, poteva funzionare con Berlusconi del 2001, cioè il contratto con gli italiani con il modello lì e ha funzionato pienamente, oggi un modello che secondo me mostra la porta. Avanti, ancora avanti. Altro aspetto interessante è che la fine della centralità dei quotidiani è il determinare i comportamenti di voto, comunque sono sempre meno influenti. Anche lo dice questo dato quantitativo che ci dice che la quanta regionale venduta dal 2000 al 2002 c'è calato del 34,3%, nel 2000 erano avvenuti 6 milioni di quotidiani tra nazionali e locali, oggi siamo sotto i 4 milioni. Questo ovviamente ha delle ripercussioni molto evidenti sui pesi che i vari mezzi di comunicazione hanno oggi nel determinare il comportamento di voto, comunque le informazioni. Avanti. Rimango qui su questo slide. Il census accanto al digital divider, al cultural divider, introduce un terzo concetto che è quello di press divide. Perché vi dico questo? Perché è importante fare un'altra riflessione. Di fatto, la riflessione che emerge da questo slide è che la comunicazione di massa, intesa come ho un unico canale di comunicazione, parlo a tutti, è un approccio che oggi può avere dei problemi rispetto a chi effettivamente sta ricevendo questo messaggio. Cosa voglio dire? Voglio dire che il census ha dimostrato, incrociando i dati in alcuni sondaggi, in alcune ricerche, che esiste una quota ormai non più marginale della popolazione italiana, circa 8 milioni di persone, che ha smesso di leggere della carta stampata o non ha mai iniziato a farlo. Appunto, accanto al digital divider, cioè la quota di italiani che non accede a internet perché non ha niente strutture tecnologiche o non ha una connessione ad altre velocità che potrebbero fare, accanto al culture divider, cioè persone che pur potendolo fare per cambiamenti non lo fanno per motivi culturali, perché non ritengono utile farlo, sta emergendo questa terza forma di frattura dell'opinione pubblica, impresti di varie persone che o hanno smesso di leggere o non hanno mai iniziato a farlo, di queste 8 milioni di persone, circa 4 sono state estimate tra gli under-trend, tra i cosiddetti inattivi digitali. Se io oggi voglio fare arrivare un messaggio a quel tipo di target, probabilmente i mezzi tradizionali non riescono più a soddisfare quel tipo di bisogno. Questo ha una ripercussione molto evidente per la comunicazione commerciale, quindi per i voti di massa oggi è praticamente impossibile con un'unica campagna arrivare a tutti, ma è tutto evidente che ci sono delle ripercussioni anche sulla comunicazione politica. Sarà un caso, non lo è affatto, il fatto che tra gli under-24, i cosiddetti New Cane e quelli che vanno a votare per la prima volta, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 43% dei consensi alle politiche del febbraio del 2013, 43%, il Movimento 5 Stelle ha il primo canale YouTube in Italia per un'unica visualizzazione. Andiamo avanti, vi spiego come questi dati di realtà si incrociano, lo riporrò un po', lo arrivo qui. Nel frattempo sta succedendo quest'altra cosa, ho citato YouTube, e YouTube ha anche utilizzato in questo, tra il 2000 e il 2012, Draghi e Megaset combinata hanno perso il 17% di share, passando dal 91 al 73, a vantaggio del digitale terrestre, c'è comunque una istituzione del pubblico tra i vari canali, e questo veramente vuol dire che ancora una volta c'è una frammentazione dell'opinione pubblica, in tanti piccoli rivoli, e quindi chi fa campagne elettorali non può che tenere conto di questo aspetto. Avanti ancora, fermi qui sul punto B in particolare, nel 2012 è stato il primo anno che la tendenza si è consolidata, in cui la somma del loro share di Tg1 delle 20, Tg5 delle 20, Tg7 delle 20, non supera il 50% di share, tutte e tre sommate, vuol dire che più in italiano su due a quell'ora non guarda i telegiornali, è un dato che è storico perché qualche anno fa sarebbe stato impensabile, e che dice ancora una volta come c'è una distribuzione, una dispersione dei meccanismi di influenza, è come se è assolutamente fondamentale essere bene, presenti ovunque, senza un atteggiamento muscolare, ma basta non solo la qualità. Avanti, quando vi dicevo prima, il Movimento 5 Stelle ha il primo canale di rifiuto per numero di visualizzazione in Italia, mi riferivo a questa tabella in particolare, questa tabella misura il peso in termini, un valore assoluto delle persone presenti su Facebook, YouTube e Twitter. È importante notare che YouTube, quando pensiamo ai social network, alla politica, YouTube lo sentite citare una volta su mille, una volta su mille forse troppo, una volta su cento, si parla di Facebook e si Twitter. La verità è che, guardate tra gli under 30, YouTube è un mezzo ancora più utilizzato di Facebook per, diciamo, informazione generale per accesso. Quindi, YouTube è oggi a tutti gli effetti un strumento potente, almeno quanto Facebook, più potente addirittura in alcuni segmenti elettorali per scopi elettorali. Notate come, io ritrovo a fare per me, sono un po' caldo, è un affetto, mi scelte io, ricordate, è un'altra, mi approfittiamo per dirgli che le slide poi le vediamo tutti con il fatto di scrivere, l'arte, l'avete tutto, è tutto, è tutto, c'è tutto. Un altro aspetto su cui non mi stancherò mai di insistere è che, guardate lo avrò assoluto Facebook versus Twitter. Facebook in Italia ha preso 8 volte Twitter. Ci siamo raccontati un'altra storia, molti giornali nazionali hanno raccontato, ricordo, nel 2013 l'analisi del sentimento, non so se vi ricordo, c'erano pagineate piene di grafici con gli hashtag di quante persone avevano squittato con l'hashtag in quel determinato momento. A livello elettorale valeva un ottavo di Facebook con le tabelle. La domanda dove si vincono le elezioni in Italia, la risposta è inequivocabilmente si vincono su Facebook. Qualcuno dice altro, diciamo, questi dati mi mostrano che non è vero. È interessante notare come questa proporzione non cambia, se voi tenete conto, di altri parametri. Di solito si tende a pensare, in questi casi, che strumenti traduzionali più nuovi o più di micchia sono utilizzati in modo prevalente da quelli che vengono chiamati un re-adopter, cioè i giovani e quelli che per la prima volta accedono a questi strumenti, li esplorano e poi il meccanismo si va propagando. Nel caso di Facebook e Twitter così non è, perché la distanza tra gli utenti aumenta tra gli under 30, aumenta tra le persone più istruite, quindi non è una questione di segmenti, se ci sono c'è neografici, è che Facebook pesa molto di più che Twitter in Italia. E questo impone una riflessione, probabilmente. Una riflessione che, a differenza di altri paesi, dove la proporzione non è così evidente, Facebook e Twitter, che di solito vengono pensati insieme, in Italia devono essere pensati separatamente, con due scopi diversi. Facebook ha un obiettivo principale, secondo me, che è quello della conversazione, quello che viene chiamato anche disintermediazione, cioè io, mittente politico, che sia un candidato, che sia un partito, che sia un'organizzazione, che sia una pubblica amministrazione, uso Facebook per parlare direttamente col mio elettorato, con i miei cittadini, con la mia base di persone, senza quindi avere i media come mediatori, come filtro. Ovviamente il Poliziano ha colto il lato positivo di questo aspetto, cioè io parlo con i cittadini senza aver bisogno dei giornali e delle televisioni. Stavo ancora facendo finta di aver capito che questo prevede, presuppone anche una bidirezionalità, cioè che così come io parlo a loro, loro, i cittadini parleranno a me e io, se non rispondo, sto mancando un'aspettativa sociale da parte del cittadino. Fino a quando un sindaco in una città non si sentirà ugualmente in dovere di rispondere alla stessa domanda fatta da lo stesso cittadino, da lo stesso momento, da lo stesso periodo storico, fatta dal vivo o sul Facebook. Per cui dal vivo penserà che sia obbligatorio rispondere anche per un fatto di educazione, mentre sui social network non si fa perché come se la domanda valga meno. Finché c'è questa divaricazione c'è evidentemente un problema di aspettative sociali frustrati. Sì, arriva. Ho la casa. Avete una domanda? Approfittiamo di 30 secondi. Avete una domanda? Vi porto la domanda. Ma le atti sono riferiti a popolazione italiana, segnalo tutti i diritti internet e la popolazione mondiale? Quando parlavo di sproporzionale intendevo dire che a livello mondiale il rapporto 2,5 a 1, cioè un miliardo e 100 milioni di internet su Facebook e circa 500 milioni su Twitter e su Facebook la differenza in Italia è molto più larga. quindi ciò che può valere come media mondiale l'Italia è necessariamente differente. Comunque approfitto per parlare di Twitter, quindi Facebook serve per questo secondo me, per la disintermediazione, per il dialogo diretto, ovviamente il dialogo diretto che suppone una bidirezionalità, se non c'è sarà sempre una cosa immatura. Twitter, per come sono fatte le persone che lo animano, oggi a mio avviso è più uno strumento di relazione. Cosa voglio dire? Se io, comunicatore politico, io vittente politico, voglio far arrivare una notizia ai media, meglio fargliela sapere attraverso quel canale che ai media è più gradito rispetto a Facebook, dove gli opinioni dei giornalisti, gli editori, i personaggi pubblici amano dialogare maggiormente rispetto a Facebook. Quindi Twitter, più che servire come luogo direttamente di conversazione, è più un luogo con cui io posso coltivare la relazione. Non mi nascondo che durante la campagna di Renzi e le primarie del PD, la scelta di utilizzare il format Matteo risponde, quindi le domande dirette su Twitter e non su Facebook, dal punto di vista quantitativo non aveva molto senso, perché le persone erano prevalentemente, numericamente su Facebook, anche se Renzi ha più follower su Twitter che fanno live su Facebook, cosa deriva dal fatto che gestisce molto di più Twitter in prima persona rispetto a Facebook. Ma questa è una eccezione. Il ragionamento che ho fatto da noi, ve lo racconto con la massima onestà, è che ruffianamente i giornalisti apprezzavano più questa cosa e quindi avrebbero dato molto più risalto al fatto perché lavoravano sul loro territorio, fermo restando che il valore comunicativo di quello che abbiamo fatto in maniera interafica, perché comunque Renzi rispondeva in prima persona e era in diretta video, quindi nessuno può dire che fosse una cosa immediata, la terzi o godata, quindi dal punto di vista dell'approccio non cambia nulla, dal punto di vista della cassa di risonanza Twitter, per cui il scopio a cui ci serviva era maggiore, perché i giornalisti sono entrati direttamente, hanno bruciato, è più bello, è più figo perché su Twitter io non sono l'apporto, però evidentemente per i giornalisti è così, avanti, ancora avanti, riflettiamo un attimo sui primi due libri di questa slide, opinione degli italiani sulle informazioni, l'85% degli italiani ritiene di essere in grado di trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno, 85%, gli italiani hanno una grandissima autostima nella loro capacità di comprendere la realtà, il fatto che voi risolidiate c'è una buona riflessione, che evidentemente ci sono due conseguenze dirette di questo dato, il primo dato è che evidentemente dare informazione agli italiani è molto semplice, perché gli italiani pensano di arrivare direttamente all'informazione, questo vale sia positivo che negativo, disinformare gli italiani è altrettanto semplice, perché se non c'è da parte degli italiani il bisogno di essere aiutati nella decodifica della realtà da parte di giornalisti, giornali, televisioni, partiti, gruppi organizzati, vuol dire che è facile arrivare direttamente a loro, sia per dire cose positive o vere, sia per dire cose negative o false. Non mi dimentico mai di un articolo su un quotidiano, su un sito sitarello, con i nuovi nomi che sono spesso, rimandano i siti ufficiali, ma sono siti fake, diciamo il caso Lercio, che è la versione trash di Lego, per chi lo conosce, nota tutti. C'era un sito, un sito calaprese, che aveva messo un fotomontaggio di un ragno gigante rosso su un muro a Gioia Tauro, che era chiaramente un fotomontaggio, quel link aveva generato 80.000 condivisioni. Io firmerei oggi per fare un post qualsiasi, con 80.000 condivisioni, se mi dessero una ricetta per farlo, io firmerei subito. Quella è la prova di quello che vi sto dicendo, cioè che questo dato oppone grandissime opportunità e altrettanto grandi sfide ai comunicatori politici e politici interessanti. C'è un mondo che ritiene di non avere bisogno gli aiuti di nessuno. La sfida è comunicare bene, comunicare con regolarità, ma anche rispondere punto su punto alle bufale. Il primo dato si spiega con il secondo, perché il 70% degli italiani ritiene che gli apparati dell'informazione tradizionale tendono a manipolare le notizie. Manipolare è un concetto molto più profondo, molto più devastante rispetto a cancellare, falsificare, omettere, ridurre, trascurare. Manipolare vuol dire un ruolo attivo dell'editore in quello che arriva al cittadino finale. Se gli italiani hanno una stima così bassa dell'opinione dell'informazione, è del tutto evidente che vanno a riversarsi in altri posti, in altri luoghi dove si svolgono, dove si determinano le dinamiche informative. Avanti, avanti ancora, 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 ok. In quattro anni è cambiato moltissimo nella comunicazione politica in Italia. Lo testimonia questa slide, che mette a confronto due elezioni che sono disavolgendo il dato, europeo 2009 versus politico 2013, ma che pone delle indicazioni di tendenza assolutamente indiscutibili. In particolare, la tabella riguarda i canali utilizzati per acquisire le informazioni per scegliere chi votare alle elezioni del 2009, europeo e 2013 politiche. Sono quelli che in gioco sono chiamati gli agenti di socializzazione politica, quindi lei prima da votare dove si è formato e vediamo come in soli quattro anni, quattro anni non sono neanche il mandato da sindaco, quattro anni che si è cambiato praticamente tutto. Nel 2009 i telegiornali erano al 69%, nel 2013 le politiche erano al 55%, quindi i telegiornali pensano a 14 punti percentuali meno. Ma attenzione perché contemporaneamente le tv all news crescono al 9,6, quindi c'è una distribuzione, e non una scomparsa dei telegiornali, ma una distribuzione delle influenze. I programmi di tv di approfondimento sono cresciuti del 6 e 2, quindi la tv rimane centrale, nessuno qui si sogna di dire che la tv non è centrale, assolutamente no, ma è diversificata e quindi ad esempio, secondo me, un partito a qualsiasi livello non si può permettergli mandare in televisione a fare i conto di persone che non siano state adeguardamente preparate nelle ore, nei giorni precedenti. Pensare ad andare così, a perdere due ore senza coordinamento centrale, secondo me è una folia, so che mi limiterò a molti, perché il centralismo democratico evocano brutti ricordi, però secondo me, essendo luoghi televisivi dove si perdono voti e si guadagnano voti, pensare di andarci con una degualta preparazione è pericolosissimo, sicuramente, l'inigenità è molto pericoloso. Quarto livello è quello che è più importante, confronto con parenti e amici, quello che è veramente definito passaparola, si passa in 4 anni dal 19% al 43,9%, c'è una crescita del 25%, cioè un quarto degli italiani in più rispetto a 4 anni fa decide di votare non sulla base delle informazioni ottenute attraverso i media, ma sulla base del confronto con parenti e amici. Il census infatti parla espressamente di comunicazione extramediale, cioè di un modello di comunicazione politica in cui non è più importante stare sui media, ma arrivare a quelle persone, arrivare direttamente a quelle persone perché saranno loro i vostri principali alleati per vincere le elezioni. Cosa vuol dire nel concreto questo a livello di organizzazione e comunicazione? Vuol dire che chi comunica anche in campagna elettorale deve cominciare a pensare a se stesso, che sia un partito, che sia un candidato, come una sorta di cassette degli attrezzi in cui il cittadino, l'utente, il sostenitore, il militante, possa trovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per poter lui andare con gli amici, con i parenti, a parlare, a convincere, a coinvolgere. Vandiamo per avanti. Quelli che vengono chiamati strumenti classici di propaganda, cioè i materiali di propaganda dei partiti, 9%, siti di internet dei partiti, 5,9%, manifestazioni pubbliche dei partiti di comizi, 4%, pesano in misura infinitamente minore rispetto a quella dinamica. Quindi quello che viene considerato è classicamente propaganda, oggi sposta meno voti rispetto al passaparola. Questo non vuol dire che però i siti di internet, ad esempio, debbano essere snobbati. Perché dico questo? Dico questo perché guardate l'ultimo rigo, blog, forum di discussione di Facebook, 8,7%, è un dato basso, sembrerebbe in contraddizione con tutto quello che avete detto fino a questo momento. Ma quel dato vale attenzione, perché quel dato gli italiani si fanno convincere a livello di comunicazione elettorale e persuasiva direttamente. Tutti gli altri utilizzano quello strumento non per far convincere o farsi convincere, ma per prendere le informazioni da fuori dalla rete e fuori dalla rete si va a convincere. Questo dato è molto indicativo di un altro problema che va risolto nel più breve tempo possibile, cioè quello di intendere la comunicazione offline e quella online come due paradigmi che sono tra di loro in contraposizione. Questi dati dicono che questa storia deve finire nel più breve tempo possibile. Il modello vincente è un modello in cui si fa il porta a porta, old school, ma si va col tablet a fare il porta a porta, per dire, facendo una sintesi più facile possibile, più evocativa possibile, in cui se io devo andare a parlare con la signora di 80 anni, è tutto evidente che quel dato mi dice che la signora di 80 anni come un cittadino X vorrebbe essere coinvolto direttamente a casa sua, cioè vuole parlare con persone di cui si fida, vuole potersi fidare di qualcuno, non può più fidarsi nei media perché c'è un decadimento della fiducia, non si fida più dell'intente politico classico, cioè del canale di signora che ne parla col comizio, vuole avere persone che conosce o che comunque accetta l'idea che qualcuno si vada a parlare e questo tipo di meccanismo però deve prevedere un ruolo massiccio delle tecnologie nel portarmi le informazioni di cui ho bisogno. Se non librivo questi due modelli, mi mancherà sempre qualcosa. In Italia è un po' più complicato fare il porta a porta tra l'americana, perché nella USA c'è una legislazione sulla privacy molto più leggera, per usare un eufemismo, e quindi sostanzialmente gli americani, Obama è stato maestro in questo, aveva un sistema per cui il militante, il sostenitore Obama, aveva su un software, su un palmare, la matta precisa, isolato e risolato di chi aveva votato chi alle ultime elezioni. Quindi andava a bussare sapendo che nel 2008 poi il cittadino aveva votato Obama, aveva votato McCain, quindi poteva in qualche modo fare un porta a porta a mila altri. Perché accade questo? Mi non ha una faccia incredibile. Perché negli Stati Uniti ci si pre-registra per le elezioni, quindi loro hanno le meccanismi di database molto più precisi. In Italia non si potrà mai, credo, arrivare a questo livello del dettaglio. Però questo non vuol dire che non si possa fare un porta a porta in modo scientifico. Uno dei più grandi rimpianti che il PD nazionale deve avere è non aver usato quel benedetto database di 3.600.000 grandi reti primari per fare una cosa semplicissima, prendere quei dati città per città, incrociare quei dati, capire quali erano le zone in cui Renzi aveva preso più voti e andare a fare il porta a porta in quelle città in particolare dove c'è l'elettorato di Renzi che non tutto ha votato poi per il PD alle polizioni. E ci andava a parlare con un numero di loro per provare a convincere la votata del PD. Non bastava che una quota neanche tanto elevata di quella elettorato di uscita dal PD votasse il PD e adesso parleremo di un altro mondo. Invece posso raccontare per certo che, io ci ho lavorato a capire di Selle istituzionale, premesso che le responsabili di comunicazione del PD e le responsabili di comunicazione di Selle non si sono mai parlati tra loro, io pregavo i ginocchi di breve, sono una squadra, di breve ho ascoltatoci, niente. che quel database a 3.600.000 persone è stato utilizzato per mandare 3 main, 3 a tutti in liste verticali. C'erano i databisti di persone che volontariamente che hanno dato dei dati, che erano organizzate, che erano distruite per città, si poteva fare qualsiasi tipo di lavoro. Bersani l'ha chiamato più volte la nostra bomba atomica, un'altra bomba atomica è rimasta inesplosa, è andata così. Però sappiate che il fatto che non abbiamo come legislazione allo stesso livello di drive, cioè culturalmente abbiamo un livello di quasi molto più stringente rispetto agli Stati Uniti, non impedisce a un partito di organizzare il database e andare quasi porta a porta. Io, se posso, presso che un documento 5 Stelle non verrà mai la profonda, per motivi, perché loro non lavoreranno mai con lui, però, anzi, quasi certamente, però, io, se posso... Faccio certamente, faccio certamente... No, che si fa da l'applauso. Ho rifiutato anche offerte di lavoro a questo punto di vista, sono abbastanza blindato. Se io fossi un consulente politico dei 25 Stelle, il consiglio che oggi vi darei andare è prendere i dati dei seggi del politico 2013 e incrociarli, cercare di avvicinare il maggior numero di voti possibili del politico 2013 a quelli del politico 2014. Quindi, se io sono residente a Grumwap, nel giro di Bari, nel seggio 12 Grumwap, nel 5 Stelle, ha preso il 31, io farei la campagna porta a porta a vita, perché lì c'è il mio elettorato potenziale. Cosa che... Cioè, basta incrociare dati pubblici, non è una cosa che non si può fare. Questa è la dimensione, la dinamica attualmente. Quindi, l'attivazione è a non fare il tracking data, però, da puntato, i dati, tipo, siti internet delle parti di 5,9, non vuol dire che i siti internet non servono, anzi, forse, nel momento in cui servono i più in assoluti siti internet, ma intesi non come strumento di comunicazione verticale e propaganda, ma come strumento attraverso cui io, organizzazione politica, metto online tutti i contenuti che servono, infografiche, materiali di programma, schede, agenda pubblica del candidato, tutto quello che può servire, manifesti generati di utenti, cartoline, posta di campagne tematiche, tutto quello che può servire. Deve avere un unico luogo, e aggiungo io, funziona questo modello, quanto più è scalabile, cioè quanto più io riesco, come filiere di organizzazione politica, a partire da un messaggio macro, qualsiasi politico parla di ambiente, lavoro, mobilità, e declinarlo sempre di più fino ad arrivare al problema del cittadino, della buca, della strada, di via tale e tale. Quanto più questo mio stagio è scalabile, tanto più la mia comunicazione politica entrerà nelle case delle persone e rientrerò in quella variabile lì. Ripeto, non è una questione che è il futuro, è il presente, questi sono dati che dicono inequimplicabilmente che la strada è questa. Ma noi ancora avanti, ciò mi è detto ancora interessante, perché è scoporato per appartenenza politica, in CICE che in alcune cose è abbastanza significativa. Prima di tutto che le differenze tra i livelli culturali, l'impostazione e il riferimento dell'informazione tra centro-sinistra e centro-destra sono molto meno spiccate di quanto ci siamo raccontati in questi anni. A parte alcune, c'è una differenza, ok, ma sono differenze tutto sommato marginali, è vero che gli elettori di centro-destra guardano più televisioni che gli elettori di centro-sinistra, ma parliamo di 9 punti percentuali, è vero che gli elettori di centro-sinistra leggono più giornali degli elettori di centro-destra, ma parliamo di 5 punti percentuali. Non sono differenze così rilevanti da poterci permettere di dire che i elettori di sinistra e i elettori di destra hanno due diete mediatiche diverse, non è così. Mentre è molto più interessante riflettere sulla dieta mediatica del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, il confronto con parenti e amici è già il primo agente di socializzazione, il 50% dei elettori di 5 stelle ha deciso basandosi su quello che ha letto, visto, sentito che è stato oggetto del confronto con i loro amici e parenti. Quella è sempre qua la colonna dell'elettorato del Movimento 5 Stelle ci dice che se da un lato abbiamo detto che blog, forum e facebook intesi come diretto strumento di persuasione, in assoluto valgono l'8,7%, però tra i elettori del 5 stelle questa quota sarà al 22,3%, quindi i elettori del 5 stelle sono influenzati nelle scelte dai social network al triplo rispetto alla media nazionale. Ora c'è una domanda di ricerca, ma anche una domanda pragmatica, che è una domanda sicuramente più di fatto, perché non è una risposta definitiva, se uscisse, emergesse, resta molto felice. Cioè, vorrei capire se questo comportamento, che è completamente diverso dal comportamento di tutti gli altri elettorati, vuol dire che c'è un elettorato che è quello del Movimento 5 Stelle che si comporterà sempre così e sempre diversamente dagli altri, oppure se quello è l'indicatore, è una spia di una tendenza che poi riguarderà tutti gli altri partiti nel tempo. Chi per primo riuscirà a capire questo quesito, quindi capirà se stiamo andando verso quel modello lì per tutti, o se solamente quel modello riguarda solamente un segmento politico, riuscirà a impostare le campagne naturali del futuro nel modo più efficace e riuscito possibile. Avanti, ancora, 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 ok. Negli ultimi decine si è notato cambiamenti dovuti alle nuove tecnologie digitali. Perché vi faccio vedere questa tabella? Perché spesso ci siamo laggiati nell'equazione più internet uguale, migliore democrazia o più democrazia. L'italiano non la pensano così, sappiate questo. Perché alla domanda appunto negli ultimi decine si è notato cambiamenti dovuti alle tecnologie digitali. Nell'informazione ci sono per il 34,2% cambiamenti in meglio, 12,8% cambiamenti in peggio, per il 53% nessun cambiamento. Quindi la porta da punto di vista della qualità di informazione. L'italiano pensano di avere più informazioni o migliori informazioni rispetto all'anno scorso. Fin qui tutto ok. Andando invece nelle parti più, diciamo, critiche, vediamo quasi solo aspetti politici. I rapporti con la pubblica amministrazione per il 60% sono rimasti uguali, per il 17% sono migliorati, per il 23% sono peggiorati. Quindi il saldo è negativo rispetto all'ultimo anno. La formazione delle opinioni politiche per il 56,3% sono rimasti uguali, per il 15% sono migliorati e per il 28% sono peggiorati. Quindi il saldo è ancora più negativo. Organizzazione dei movimenti politici. Per il 49,7% sono rimasti uguali, per il 15% sono migliorati e per il 35% sono peggiorati. Il saldo è negativo per il 20%. Quindi gli italiani sono convinti che la politica non abbia fatto giocamento dall'avanzata dell'Inter, ma anzi, a voi di italiani. Qui c'è un'altra domanda interessante, su cui magari vediamo un pochino più chiaro, magari ci facciamo anche su questo. Cioè la domanda è, sono le tecnologie che in qualche modo allontanano il cittadino dalla politica o è la politica che non ha usato le tecnologie in modo sufficientemente adeguato per avvicinare quella distanza? Per me, ripeto, è una domanda che prendo più dalla seconda importanza, cioè che la politica e l'amministrazione in particolare non ha perseguito fino in fondo gli obiettivi che poteva perseguire, quindi c'è stato uno sbilanciamento verso lo negativo. Però anche questa è una domanda ovviamente importante. Avanti. Avanti. Ancora. Allora, 5 pensieri su come devono comunicare e come devono organizzarsi i partiti e in generale le organizzazioni politiche oggi. Punto numero 1. I partiti devono trasformarsi da opinion maker a problem solver. Voglio dire, voglio dire, c'è stata una tendenza spesso, cioè tuttora, anche dei sindacati, non solo nei partiti, di trovare a determinare la propria agenda delle attività sulla base di un proprio calendario, che prescinde da quello che succede attorno. Quindi se il sindacato X decide di parlare di lavoro da una campagna che va da marzo a maggio, magari di qualche gruppo italiano si parla di guerra in Crimea, quindi non c'è mai una connessione tra le due cose e quindi poi c'è l'organizzazione politica che parla di fatti suoi senza alcun allenamento con la realtà. Io penso che questo modello, un modello molto facile da gestire perché tendenzialmente autoreferenziale, non serva all'obiettivo ultimo, cioè entrare e incrociare l'agenda politica. Quindi ci deve essere un modello in cui molto più utile sarà avere delle idee chiare un po' su tutto e sapere giorno per giorno, punto su punto, sulla base di autorità, entrare e dire la propria. Fino a quando appunto il partito vorrà cercare di imporre l'agenda su invece la complessità del mondo dei media, secondo me perderà tempo e non verrà ascoltato fino in fondo. Parlo appunto del partito come un servizio di assistenza elettore, è molto più utile far sì che i partiti rispondano alle domande, il citizen care, un customer care politico, così come noi ci siamo abituati, utenti di internet, a ricevere risposte puntuali dalle compagnie telefoniche che se io mi lamentano i 15 minuti e mi scrivono, perché i partiti non lo dovrebbero fare? Fino a quando c'è questa differenza? Cioè l'utente di internet si è abituato a un modello di eccellenza che non trova in tante altre organizzazioni, in particolare quelle pubbliche, quelle politiche. Quindi c'è un modello che è possibile, l'abbiamo visto che è possibile, perché lo fanno delle aziende, che potrebbe essere una strada. Due? Vai là ancora. Questo obbliga, tra virgolette, le organizzazioni politiche ad avere tutti i contenuti sempre a disposizione o comunque di avere una riflessione perenne o permanente su tutti quanti i temi di agenda, con la possibilità per gli elettori di intervenire direttamente, gli elettori iscritti, di intervenire direttamente per completare, migliorare sempre la cassetta di attrezza. E' chiaro che se io come partito, io come sindaco, io come candidato devo essere sempre sul pezzo, tra virgolette, non posso pensare di essere sempre sul pezzo su tutto, se non mi faccio aiutare dalla mia base. Quindi un modello di partito, un modello di partito che secondo me è più efficace, un modello in cui questa logica dalle campagne tematiche si sposta a una logica più orizzontale in cui io apro le porte e mi faccio aiutare nella composizione della mia linea dai partiti. Avanti. Punto numero tre. Questo è un punto di comunicazione. Essendo noi in campagna elettorale permanente, cioè essendo in un modello che viene chiamato anche con un bricio di accezione negativa, di sondocrazia, in cui qualsiasi politico fa una dichiarazione, c'è subito dopo il sondaggio del quotidiano online che dice che sono i pensi, il tasto verde di Skype, il favorevole contrario. Quindi ogni dichiarazione è oggetto di una discussione subito dopo, con favorevole e contrarie, con sondaggi, con continua analisi dell'opinione pubblica. Questo vuol dire che appunto se siamo entrati in questo modello, questo modello porta qualsiasi politico che si espone a livello comunicativo a guadagnare e perdere voti ogni giorno, sulla base di quello che dice e di quello che dicono gli altri. In questa logica anche le organizzazioni politiche devono adattarsi avendo un approccio alla comunicazione che io chiamo in stato tattico, cioè chi comunica la politica deve essere in grado nel giro di poche ore di organizzare delle campagne che durano 24 ore, magari campagne anche satiriche o campagne che abbiano lo scopo di entrare sul tema principale della agenda per dire la propria e per intervenire. È una cosa che il PD ha fatto con Alterna Fortuna e con i Fantastici 5, l'intuizione è la corretta, cioè l'intuizione è quella di entrare in un video app d'attualità con un messaggio che fosse a metà strada tra la salatina e le informazioni. Poi, ovviamente, possiamo discutere le modalità, però secondo me l'impostazione dal punto di vista metodologico era quella, è quella giusta. Avanti. Qui, diciamo, a top di cose ovvie, secondo me il principale problema democratico in Italia è che manca i luoghi di democrazia interna e quindi c'è uno primario in cui non scapisce nulla o partiti in cui non scapisce nulla e ovviamente questo comporta a una spirale della sfiducia che è un agronomista, quindi partecipazione frustrata che genera disillusione, che genera sfiducia, che genera disinteresse. Altre, ci sono stati progetti anche interessanti, tipo tu Parlamento, progetti alla libertà che secondo me hanno un fondamentale problema, cioè che se io prometto che con me tu avrai diritto di parola, poi torno a casa nel mio partito e nel mio partito la pensa di versamento, io non trovo lo spazio per dire quello che ti ho fatto dire sulle altre piattaforme, è che è un problema di frustrazione che poi riguarda tutti, perché se io penso che con la democrazia e quei processi di ascolto online non funzionino, poi io non mi attiverò più in un secondo momento quando magari le condizioni politiche interne sono cambiate. Quindi qui c'è un tema fondamentale da sviluppare, cioè io non farei promesse di partecipazione online che non posso mantenere perché il partito in cui sto non mi permette effettivamente di portare avanti quelle strade, perché ripeto, a lungo andare questo meccanismo porterà alla desertificazione del concetto di partecipazione, la gente, c'è una frase di Carl Sandro che diceva, un giovane ci sarà la guerra e nessuno ci andrà, e il rischio è quello, che appunto solidecità, diludere anche per certi versi i cittadini che facendo determinate cose succedono delle altre, ma poi questo fatto non fanno mai, il rischio è che alla fine poi nessuno si attiverà più perché riga tanto ne vale più la pena. avanti, è qui il comunicatore che vi dice questa cosa, ma anche io ci credo proprio fermamente, è la stagione in cui bisogna comunicare di meno, bisogna comunicare di meno e bisogna comunicare solo in determinati momenti, cioè bisogna preparare solo quando si ha qualcosa di veramente nuovo da dire, bisogna preparare con i media tradizionali solo quando si hanno grandi novità strategiche o solo per informare sui risultati già acquisiti, per tutti gli altri livelli di comunicazione giornaliera e social network bastano e avanzano, secondo me, i politici non dovrebbero fare annunci perché è troppo facile oggi chiedere conto ai loro fallimenti, e punto numero 4, ogni azione di comunicazione deve essere scalata, ho già detto, cioè deve avere come fino ultimo la capacità di illustrare la ricredita immediata, cioè una cosa è dire, un tema classico è stare nell'euro o non stare nell'euro, fino a quando io, cittadino finale, pensionato di 72 anni, non ho capito quali sono i svantaggi e i vantaggi di entrambe le opzioni, io sarò completamente in barriera da propagandone, perché ovviamente qual è il meccanismo logico che viene fatto? La vostra vita è migliorata o peggiorata con l'introduzione dell'euro, ci mettono due variabili che non c'entrano nulla tra i loro, la variabili A, crisi economica, la variabili 2, l'introduzione dell'euro, se io non scrivo che non c'è quella azione, quella azione è tutta da dimostrare, io che non ho informazioni adeguate, creo il meccanismo e quindi penso che l'euro sia il male e quindi poi alla fine vado a votare, penso di andare a votare movimenti anti-europeisti o euroscettici. Siamo in una situazione in cui questo tipo di meccanismo va smontato e lo smonti solo attraverso una comunicazione che va a dimostrare nella mia tasca, la tasca del cittadino finale, cosa cambia con un modello o con l'altro, finché non si va a costruire i dettagli, gli lettori saranno in barria delle propagande che si scontra tra i loro. generalisti e le media a preferire il twitter su facebook, per ritenere il twitter più nobile di facebook, tra un quadro che mi si apre davanti un po' questo se fanno da un po'. Comunicare meno, quando? Campagna elettorale? In generale, in generale. Comunicare meno, attenzione, non vuol dire comunicare meno bene, sicuramente comunicare meglio, ma vuol dire che ci sono dei luoghi dove si fanno determinate cose e le luoghi dove si fanno delle altre. Cioè, io penso che da parte momenti di snodo strategico, quindi quando ci sono grandissime novità o quando ci sono risultati acquisiti, i canali personali sono più che sufficienti. Io sono un grande fan delle interviste di Maurizio Gustavo Rizzupi. Ogni giorno, se voi vedo una resa mia stampa, rilascio un'intervista per un po' di gente, che cosa dici rispetto al giorno più di nuovo? Mangiare con la paillata. Cioè, un giorno più, un giorno più, che cosa può cambiare? Non insisto, sono un grande fan, ok? Cioè, ogni volta che hai sentito la segna stampa c'è un'intervista di Maurizio Gustavo Rizzupi. Alla fine non ascolta neanche più. Nord, Sud, in questa situazione di strutture social è nazionale e locale? Allora, a sud, paradossalmente il tasse di metodizzazione social è più alto che a nord? Su Facebook? Sì, sì, in tutto, in generale. Leggermente più alto. Cioè, gli intenti di Facebook e di Twitter. Non ci sono differenze statisticamente clamorose, quindi non ne farei una questione, diciamo, di territorio. Mentre sulla dimensione della nazione locale, la quale domanda mi permette di dire una cosa? Cioè, io sono fermamente convinto che più è piccolo il comune, più i social media sono determinanti. So che è una cosa un po' strana, provo a spiegarvela. Quanto più i comuni sono piccoli, tanto più ci sono, tanto più il sistema comunale media semplificato. Cioè, un comune di 5.000 abitanti non c'è il giornale locale o se c'è molto raro. Non c'è la tv locale che parla solamente dei temi del comune X. Non ci sono media locali. Per cui, nel comune molto piccolo, se io sono il sindaco e ho 1200 amici di Facebook e aggiorni regolamente Facebook, ho concrete possibilità di essere io, il medio. Cioè, di essere io e del telegine con il canale di comunicazione tra le rette personale, è di portare la mia conversazione da Facebook al bar, alla piazza, appunto, in un contesto dove c'è grande senso di comunità, i luoghi della relazione sono ridotti e ci sono quindi media nulli, gli influencer sono di meno e quindi un politico di comunicazione attraverso quel canale ha più possibilità perché è un contesto poco competitivo. Ripeto, sarà che può sembrare un po' controintuitivo perché mi penso un comune piccolo, poco inter, però io vedo a Bari, che non è una città più tra 350.000 abitanti, che al bar si parla di quello che ha scritto Emiliano su Facebook o su Twitter tra persone che probabilmente non sono appassionati di politica, però siccome il sindaco ormai è abituato le persone a comunicare attraverso quella modalità, il flusso si sposa da Facebook al bar, cioè da un estremo all'altro. Se l'ho visto a Bari, penso che dove ci sono TV locali, TV locali, dove siamo molto complessi, dove la media nazionale si è diversa, il bar ha moltiplicato 100 anche nei piccoli comuni, anzi sono sicuri di questo. Sì, non dovrebbero fare annunci, in campagna elettorale come si scontra con magari il fatto che non fa nulla o come essere troppo prolissi nel comunicare. Allora, in campagna elettorale è chiaro che la tendenza all'annuncio sarà certamente superiore rispetto ad altri contesti, il punto è che bisogna fare valuta di incrociare diversi variabili. Prima di tutto, chi fa l'annuncio? Se l'annuncio viene fatto da uno che è stato sindaco per 10 anni, che non ha fatto per 7 anni quello che sta dicendo, l'annuncio vale zero. Se io sono un neofita o sono una persona che nella mia vita precedente facevo un imprenditore di successo, non gli intervento, infatti persone si dovrebbero rispondere puramente casuali, ho un credito di credibilità che mi dice che siccome sono stato un imprenditore di successo, allora il mio delettore finale può pensare che io sia altrettanto bravo nella politica. Quindi, c'è da incrociare queste due variabili. Seconda cosa, nel limite del possibile, proprio perché c'è un clima di profondissima sfiducia, io penso che se si fa un annuncio, ci può stare, ci deve essere coerentemente un livello di interpretazione con l'annuncio tale che, ad esempio, se io devo annunciare un piano di riduzione del tasso, un piano di aumento degli spazi veramente comuni, io dovrei spiegare dettagliatamente, cioè dovrei comunicare più livelli, dovrei arrivare alla slide del pesce rosso, di cui se volete parliamo adesso per un certo tipo di pubblico, fino al livello in cui ci deve essere il capo dell'ordine architetti, che deve avere una relazione a 100 pagine in cui mi spieghi A, B, C, D, F, G. Quindi, io penso che si debba alzerare gli annunci, penso piuttosto che si debba comunicare in modo scalare, cioè sulla base del tipo di interlocutore in cui bisogna, ma comunicare in modo scalare vuol dire che io, quando faccio un annuncio, so che posso soddisfare diversi livelli di comunicazione. Se invece non riesco a soddisfare diversi livelli di comunicazione, ci sarà una parte elettorale che io prendo, un'altra parte elettorale che potrebbe fare gli oretti di decidere online, di andare a smontarmi, se è particolarmente in cui dico come i catansi che si devono passare ai serremiti, ma che oggi l'annuncismo può diventare uno proprio taglio se non porta i risultati a un bellissimo termine. Dino, una domanda, quando dici che una campagna che è già impostata è più facile perché ovviamente prescinde dal paese reale, però diverso dai cosiddetti trending topics, sia su Facebook che su Twitter, quanto ci possono ingannare? Ad esempio, un dissidente kazako che sembrava il problema più grande dell'Italia, poi scende in piazza e ti dicono ma le tasse quando sono abbassate? Cioè quanto ti può portare fuori strada dal contatto con il paese reale, quello di essere più fluidi? Molto, molto. Pensate all'ultima settimana di civati delle primarie del PD, mi sembrava aver vinto le primarie e poi il risultato finale è stato diverso, quindi la risposta è portare l'inganno, uno dei siti che io amo di più si chiama www.sandaggipoliticoelettorali.it e contiene tutte le rilevazioni statistiche fatte in tempo reale, pubblicate, vado una settimana lì e capite molte cose che altrimenti vi sfugono, è appunto un sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è un archivio di tutti i sondaggi fatti sull'area nazionale che certificati, quindi con una tenibilità sufficiente da poter andare lì, e lì scoprite le voce che certe volte ti aprono gli occhi, un dato più clamoroso degli ultimi mesi, giorno dopo la strage dell'Ampedusa, sondaggi, lei fa l'ora contrario all'abolizione del reato di clandestinità, quelli che volevano mantenere il reato di clandestinità erano superiori e per l'ostante c'erano 370 persone sul fondo del mare, che verrà un dato sul territorio italiano nell'Ampedusa. Ok, forse c'è una cosa che devo fare il tuo livello. Volevo chiederti, per quanto riguarda la tempistica per una campagna elettorale, in un ambiente che non è magari quello di Bologna, cioè io sono di Verona per esempio, studio qua però sono di Verona, e per cambiare il trend, quanto adesso anche con i social la tempistica rimane importante, cioè dal mio punto di vista in una situazione sociale come quella veronese, anche con un batage mediatico e anche attraverso i social network forte, ma in tempi ridotti non riesce a cambiare il trend, cioè serve un lavoro continuo o pensi che invece con una strategia adatta... Io penso che negli Stati Uniti, dove i livelli di migrazione di social sono certamente più che eravati da noi, Obama inizia le campagne due anni prima, e che questo dovrebbe essere il modello. In Italia, il sparo sulla croce rossa, il 22 dicembre del 2012, cioè due mesi praticamente dalle politiche, non sapevamo ancora i nomi dei candidati premier. Questo porta una serie di problemi enormi di organizzazione della comunicazione. Viene Axelrod, il capo strategia di Obama, a fare la consulente per Monti ed è tutto evidente che non riesce ad avere alcun impatto sulla realtà, perché non ha il tempo materiale per realizzare. Quindi, mi sappia come ha vinto a Milano, ha vinto a Milano inizando la campagna un anno prima. Solo così ha vinto, perché se avesse iniziato tre mesi prima non ce l'avrebbe mai fatto. Purtroppo siamo in contesto dove le campagne sono sclerotizzate, perché non sapeva mai dove, a che punto siamo, quando si inizia, però paradossalmente il web impone di avere più tempo per organizzare, perché come avete visto quei dati ci dicono una cosa molto chiara, cioè che la campagna elettorale, se mai lo sono stato, forse non lo sono mai stato, non sono una questione di propaganda, sono una questione di organizzazione della comunicazione. Cioè quanto più tu, come partito, come candidato riesci a mettere le persone che ti sostengono nelle condizioni di fare campagna elettorale per te, tante più possibilità di vincere. Organizzare una macchina richiede del tempo, inevitabilmente. O vanno a 300 persone sui numeri media, o vanno in 2012, io vanno vendere da solo con la bandiera e comunque abbiamo fatto una storia terribile di grandezza. Quindi, la risposta è, non solo il tempo e il denaro, ma lo è ancora di più oggi, se parlo, è ancora di più del risultato al passato. In parere, se una campagna elettorale utilizza gli open orietà, secondo te può qualificarsi l'informazione o screditarsi ancora di più? Fammi un esempio. Le open orietà sarebbero dati... Si, ma dico, le open orietà di una pubblica amministrazione che vi viva... Ma sono dati di bilancio piuttosto dati di... E io sono l'oppositore o l'uscente? Che sono due mondi diversi. Io penso che qualsiasi dato, o qualsiasi dato... A bagno in generale, diciamo. Qualsiasi dato... Evidentemente l'elemento 5 stelle forse potrebbe utilizzare più questo tipo di dato per screditare... Certo. Io presumo anche un... Però non basta, cioè prendere il dato e straforare non basta. Lo devi rendere graficamente, secondo me. Cioè devi aumentare la compressione del contenuto. Tu prendi i dati... Ma l'altro il dato drenzo va consentando... Così, no. Infografico... Esatto. Così sì, così sì. Cioè potrebbe qualificare. Assolutamente. Io sono fresco di una sconfitta elettorale prima che a Foggia, dove il nostro avversario ha sapientemente preso i dati delle buche nelle strade, ha fatto un calcolo per cui l'apporto di buche corrispondeva un tocco in chilometri di strade con le buche. Quanto costava? Cioè quanto sarebbe costato ripararle? Quanto ha speso il comune di danni per persone che hanno fatto incidenti? Quindi danni in compensazione. Ha dimostrato sostanzialmente con i soldi che il comune ha dato ai titolari automobili che hanno fatto denuncia, avrebbe tranquillamente ripianato il denaro che serviva a fare a quelle buche. La protesta elettorale è una stampa, chiaramente. Ma c'è chi è una domanda che anticipa una cosa che dirà la vostra staglienza, la vostra settimana, se ti diamo la possibilità di fare il contraddittorio sulle slide di mercoledì alla Revoluzione dei Ministri. Lei dice, ok, bene perché sono sdoganate finalmente le slide che usano tutti, non si vede perché hanno potuto iniziare la politica, male nella parte in cui è un'ostentazione del saperlo fare. e questo può generare un messaggio comunicativo ridottante, cioè il fatto di volerlo ostentare. Tu che cosa ne pensi? Io penso prima di tutto che io non ho percepito l'ostentazione, francamente l'ostentazione. Punto numero due, che io penso che l'obiettivo di Renzi possa aumentare la percentuale di italiani che capissero quel messaggio e l'obiettivo è stato raggiunto, potevano essere fatti meglio come tutte le cose. Dovete sapere che fino alle 7 della sera prima noi non eravamo neanche certi di poter realizzare tecnicamente lo split screen trattato con l'unificio del Palazzo Chigi, perché lo potevano fare tutti, sono d'accordo. Farlo è un'altra cosa, ve lo posso garantire da insider, cioè un nostro collega pazzo, per verificare che tutti tecnicamente possono agire. Quando mi avete chiesto di fare lo split screen che cosa vanno? No, Renzi è entusiasta, loro sono. Loro c'è detto non si può fare. Per arrivare a farlo ci abbiamo dovuto metterci del tempo. Quindi è una prima volta, abbiamo lavorato in tempi strettissimi con le forze che cambiamo in corsa, comunicando con mezzi più diversi. E' chiaro che io sono molto soddisfatto della risposta con le slide, possiamo ragionare quanto si vuole. E' stato un primo passo, non è sufficiente, se adesso smettessi di fare le slide sarebbe comunque una cosa sport, allora non sarebbe controproducente. E' un modello, una cosa che per noi assume bene l'esperienza, è una cosa a cui noi non avevamo pensato, di cui ci siamo messi conto in corsa. Cioè, quando eravamo in ufficio a vedere tutti quanti le slide, a urlare per la terza gire di un refuso, Corriere ci ha fatto subito la fotografia dell'energia. Una cosa che noi abbiamo notato contemporaneamente, a cui noi avevamo pensato, che è la home page di Corriere.it, che stavamo mandando in diretta la presentazione. Noi eravamo aperti con i siti online per vedere cosa succedeva in diretta e come aggiornavano la sezione. Avevamo Sky aperte per guardare la conferenza. però io da Corriere capivo quello che è stato succedendo senza audio. Cioè, abbiamo fatto un servizio anche da questo punto di vista. Per cui se io non ho il livello di totale attenzione sulla conferenza stampa, io comunque cerco di capire quello che è stato succedendo. Ripeto, se il brief è aiutatemi a fare una cosa che non si era fatta prima, aiutatemi a aumentare la comprensione, secondo me rispetto agli obiettivi della pubblicazione, l'obiettivo è stato raggiunto. Cioè, si può ragionare, si può fare meglio. Io ripeto, per me è più problematico che i terroristi parlano del pesce rosso. Francamente, se non puoi analizzare i proie conti di questa esperienza, cercare il repubblico che parla di Yann Arendt, di Lakoff, noi diciamo. Lakoff io lo conosco. Non abbiamo aperti i libri per fare la conferenza stampa che avevamo studiato Obama, ma abbiamo un post modello replicabile e non è andato bene. Però, ripeto. Comunque parliamo. C'è la granina. Faccio il chiudo. Prima di tutto, quando dicevo prima che mancano palestre e modelli, questa cosa delle slide, credo me è una grande lezione e un grande insegnamento perché ci fa capire che l'obiettivo della politica e della politica è farsi capire. Questa è la lezione, secondo me, che ognuno di noi deve portarsi a casa. Non è una questione iniziative, ma è una questione proprio di essere accessibili e democratici. Da qui anche il nome nuove a proiettivi democratici. Poi, davvero, per dare un po' di dritte, ci elenchi un paio di politici da seguire sui social, da seguire e da non seguire. E alla fine, anche quello che dicevi prima, cioè la campagna elettorale o comunque la comunicazione politica è da un lato artigiano, perché non ci sono delle strategie precostituite. Dall'altro, però, bisogna essere pronti a essere sull'attualità e per cui deve avere uno staff preparato. E quindi, da persona che si occupa un po' di queste cose, non c'è niente di meglio che farle e capire nel mentre, e capire facendo il my doing, quali sono i limiti e le potenzialità. Per cui, davvero, l'invito è chi dobbiamo seguire per capire come muoversi. Allora... Non vale Michele Mediano. Non vale Michele Mediano. Renzi su Twitter perché è lui. Cioè, nel bene e nel male è lui. E quindi, è una notizia costante. A me piace molto lo stile, però, perché non è una cosa di obiettiva. Perché è lui. Alessandro Di Battista su Facebook. Apro dicevo, ok? Perché si capisce perfettamente. Però, quanto siete con Cristiano? Già hai fatto una prova dal DC. E voglio concludere, però. Il mio preferito di questo momento è Matteo Salvini. Questo momento è quello che secondo me comunica a me limitare come leader nazionale. Perché pur essendo, forse, che magari noi sono ritenuto da Berbanti e della stragrande maggioranza del popolo più presente, io capisco perfettamente cosa sta dicendo. Ma usi profilo senso per te. No, no, io sono un grande... Io lo devo osservi per forza. Quindi, questa è subito. Renzi Twitter di Battista Facebook. Nel complesso Salvini. Se lo posso riferire alla descrizione. Se lo posso riferire alla descrizione. Non seguire... Non li seguo. Non mi viene niente. Ma non sono state interviste di Lupi. Ma anche... Sì, ho pure fatto un test per una settimana e ditemi se riuscite a... Dopo l'entrata la prima, se nei restanti sei giochi riesce a dire proprio dei nuovi. Però loro tre. In questo momento... Se non ci sono altre domande, come se ne ritrappi? Certo, certo. Ma il meccanismo prima è stato citato delle buffale sui social. Vale la pena mettersi appunto a rispondere punto su punto o si rischia di in generale semplicemente più traffico, più visibilità della bufala stessa? Dipende da tante cose. Cioè, punto su punto direi no. Se però... La questione si può risolvere facilmente, per cui c'è un intente, che è un intente che è qualificato, per cui magari è un grande giornale che fa giù una bufala... Io gli risponderei più che altro pensando non alla risoluzione del problema immediato, ma a un ragionamento di lungo termine sulla credibilità. Per cui se è un quotidiano x, mi, continua a dire una cosa inesatta, e lo fa per 4 o 5 volte, e io, come mi tento quello che lo mostro, che per 4 o 5 volte ha detto in esattezza, alla lungo ricomprometto la credibilità. Quindi non penserei alla risa immediata, ma alla ragione di più su una battaglia strategica di lungo termine. Quindi, terrei d'occhio questo aspetto qui. Cioè, se chi sta vericolando la bufala è una persona la cui credibilità va ridotta perché gli fa danno che sia troppo credibile e ovviamente gli strumenti per farlo. Altrimenti non rispondere il punto sul punto. Ok. Allora, tra una sessione di palestra cognitiva e un'altra direi abbiamo 15 minuti per mangiare la grambiglia, mi ricordo, contributo volontario Sì, abbiamo 15 minuti e subito dopo vi ricordo Grazie a tutti! Grazie!